70 confezioni di rasoi, 30 tubi di cioccolatini, oltre ad altre tante confezioni di tavolette di cioccolato, 45 scatole di dentifricio, 50 di deodorante, 78 di shampoo, 49 di tonno in scatole e 50 di carne. Non una lunga lista della spesa, ma il bottino con cui sono stati sorpresi tre pregiudicati di 47 anni di origine georgiana e domiciliati a Napoli, che avrebbero messo a segno furti in vari supermercati nelle province di Arezzo, Siena e Firenze, a fermarli i carabinieri e la polizia municipale di Castiglion Fiorentino. I malviventi avrebbero utilizzato una tecnica collaudata per asportare la merce, una borsa schermata, ovvero una normale borsa della spesa affoderata con alcuni strati di carta di alluminio, in modo da ingannare il dispositivo dell'antitaccheggio dei supermercati. Durante la perquisizione è stata ritrovata merce per oltre 3.000 euro, oggetti atti allo scasso ed un coltello. I tre sono stati così denunciati per ricettazione e porto d'arma ingiustificato. Infine il conducente dell'auto tra l'altro dà controlli specifici e risultato avere una patente di guida falsa.